Un bel saluto a Ducchkinci! Vedasone il benvenuto a una neve puntata di Da Fassan Kurt, la neve di questa settimana. I giorni hotelieri fassini, dell'occasione della festa di Anteritobia Cianacei, vi insegnò una piccola mostra sulla storia e l'evoluzione dell'hotelleria alla Dina di Fassan. Con le tracce foto, io voglio osservare che le nasce i prumi e sottie, che le muda col tempo la maniera di torsare i guest, e che in questa nostra cultura fonda, ricca e disferenta, la giudice in valore in giunta alla vacanza di guest da tutto il mondo. Che elettorite l'identità ladina e l'economia, l'emprogette portadanzo dal Duda Ladino Hotel, scominzativa in a sud del 2010, dall'occasione della seconda edizione della Isuda Ladina, dalla collaborazione antre il Comun General di Fassa e i giorni hotelieri Fassani, che col simbolo a forma di care, l'ora fuori dai begi della scuola ladina di Fassa, i velgi avversi il care ladino a i guest. Si attacca a risonare il marketing identitario, che dà il metto del settore fuori dagli etri e di sporgere qualità scantiva e originale. Con la collaborazione dei servizi linguistici del Comun General di Fassa, dei scendenti che coordine, e col Museo Ladin di Fassa, dei scendenti di riferimento per la cultura, l'engazza e l'identità, dal 2010 le ponte via una lingua di scominzative concrete che le sposte caratterizzare il concetto di Ladino Hotel. Per esempio, traduzioni per Ladin, cioccoladini, testi e filmaggi di informazione, corsi intensivi sulla storia, la società e la cultura, il territorio ladins, disegni da incolorare con gruppi di bestie dei svalivi, con appena i nomi Ladins. Sono una regione con Rosa Carpano, una regione hoteliera che mette un'nessa la mostra e che tenso la nostra cultura che si è l'urriere vigni di. Abbiamo fatto questa mostra tra c'è una c'è con le regioni hotelier che è la regione della storia del turismo in Val di Fassa. Abbiamo voluto mettere fotografie dopo che abbiamo cominciato il turismo, da ora che abbiamo cominciato a venire i turismi a passione di Nesmonge. Guardando l'evoluzione quindi del turismo che va in alto, non è la miglior conclusione di presentare il progetto Ladino Hotel, un progetto che è nato insieme al Comune Generale e ai zone hotelieriche che vuole valorizzare ai tetti hotel la nostra cultura ladina. e quindi abbiamo voluto risonare di questo, abbiamo voluto presentare il progetto e far sapere dell'importanza di che siamo fissuti in hoteliera e di calcare il futuro del turismo di Fassa. l'idea che le so te le, che non si un do che venon semplicemente cambre o cambre particolarmente belle perché in effetti cambre belle le ha detto tutto il mondo cioè tu lo trovi in Cina, tu lo trovi a New York, tu lo trovi ovunque delle cambre belle e venono nei nostri alberghi c'è il monce che è andato intorno quindi il panorama però il panorama in biaia c'è chi è mingolta tutto il mondo che che venono in realtà le noi stessi c'è le nostre persone e quindi di conseguenza la nostra cultura c'è le cose che dopo il modo di accogliere che ho e che ho e il modo di essere che sia insomma con questione il nostro modo di vivere che che ho le cose che vogliono far sì che insomma l'attire il turista ma non di molto l'attire ma che lo interessa che capisce che importanza che ha per noi se sentir parte insomma di questa cultura Con questa occasione ricordiamo che in progetto che stanno portando via in collaborazione con l'Arisola le chiede di mettere insieme un gruppo di animazione che ha disporso ai guest attività con contenuti di storia, cultura, musica e lingue di laddino e inviando i hotelieri a collaborare con idee e proponenti Il Comune General di Fasa e la provincia autonoma di Trent fa saer che antri 20 di giugno e 28 di agosto se per portare la domanda per l'accesso all'intervento 9 di sostegno allo sviluppo di un'idea imprenditoriale edizione 2014 per il didamento finanziario ed orientamento alla formazione al dodo documento di intervento della politica del Lurier 2011-2013 L'obiettivo del progetto è che è di dare il metto a persone senza Lurier di metter agire nella piccola firma Per more informazioni, se oser all'Agenzia del Lurier Vi ricordi che per le informazioni potete usare al Comune General per telefono o usare sulla piatta internet Se volete vedere in Dodanef da Fasan Kurt e gli altri programmi della programmazione laddina potete usare anche su Youtube canale programmazione laddina.tml Deve il Paide è nascuta su alla settimana che viene